Ciao e benvenuti in un nuovo video Fava Channel! Oggi vi parlerò di una compatta professionale che a due anni di distanza dall'uscita sul mercato rappresenta ancora una piacevolissima scoperta, la Ricco GR2. Dal mio punto di vista sono tre le caratteristiche che lo rendono ancora un acquisto giusto e che può dare grandi soddisfazioni nel tempo. Insomma se siete alla ricerca del miglior rapporto qualità-dimensione siete nel posto giusto. Siamo di fronte a una delle migliori compatte in circolazione, amata soprattutto dagli street photographer, ma non solo. La qualità d'immagine è eccellente, in un corpo piccolo e a prova di taschino, ma andiamo con ordine. La prima caratteristica che salta all'occhio è la sua dimensione. La GR2 è veramente tascabile, è piccola, leggera e pronta all'uso. È perfetta per chi scatta in movimento perché grazie al wifi e all'nfc la condivisione delle immagini è immediata, sia su smartphone che computer. Minuta ma con tutto ciò che serve al posto giusto. I comandi sono infatti essenziali e intuitivi. In pochi istanti comprenderemo come utilizzarli e se invece avremo bisogno di lavorare a distanza potremo contare sulla funzione GR Remote. La vera qualità di questa fotocamera non si vede. Infatti all'interno di questo corpo compatto troviamo un potentissimo sensore CMOS APS-C da 16,2 megapixel, proprio come quello di reflex o mirrorless a lenti intercambiabili. La focale è fissa, la macchina monta infatti un obiettivo 28 mm con apertura massima del diaframma pari a f2.8. Grazie alla luminosità dell'obiettivo, all'ottimo processore e all'ampia gamma ISO è possibile ottenere buoni scatti anche con poca luce ambientale. Sempre pensata per gli street photographer, la RICO GR2 vi conquisterà per la sua praticità d'uso, anche il semplice JPEG è in grado di restituire uno scatto impeccabile. Elaborando invece il file RAW si potrà contare su una gamma dinamica davvero estesa. Questa compatta professionale ci fa sognare, piccola, maneggevole ed essenziale, regala ottimi risultati facili da condividere. Ma non è tutto, se acquisterete entro Natale sul nostro sito o presso uno store riconosciuto sul sito FOVA potrete godere di un vantaggioso cashback da 50 euro. Non male no? E voi siete curiosi di provare questo gioiellino o l'avete già fatto? Scrivetecelo nei commenti. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.